Sponsorizza questa manifestazione ormai importantissima a Castellammare che vede arrivare qui tantissimi giovani. L'attenzione continua a tutto quello che è lo sport, l'attività fisica, il vivere sano, l'educare i ragazzi a uno stile di vita sano è uno dei nostri principali scopi. La Cost Cup è nata un po' per caso, Francesco Pirrone mi ha raccontato di questo evento, noi siamo presenti qui con la nostra sede a Partinico e penso che per noi era importantissimo essere presente e spero che in futuro continuiamo ad essere attivi in questa iniziativa. Da 12 anni la manifestazione viene ospitata all'interno del Peter Pan, ogni anno abbiamo cercato di incrementare, di fare del nostro meglio e dobbiamo essere sinceri, oggi posso dire che sono soddisfatto perché ancora una volta siamo riusciti a fare le cose per bene. 500 ragazzi con le famiglie al seguito per 4 giorni a Castellammare. Sì, questo circuito del turismo sportivo è un circuito importante, noi abbiamo investito parecchio, pensate che noi già qualche decennio fa avevamo tre palestre a Castellammare e ci vuole del coraggio a fare una manifestazione così. Portare nonostante tutto questo torneo a livello internazionale, questo è ricchezza per il paese e di questo noi siamo grati alla società sportiva che adesso anche senza soldi diciamo e non ce l'ho chiaro chiaro, riesce a fare cose così importanti e significative.